Le nevicate eccezionali hanno interrotto il traffico in parecchie zone della Romania. Unici veicoli, le slitte. Squadre di spalatori sono al lavoro per sgombrare almeno le principali strade di comunicazione. Colonne di autoveicoli attendono da parecchi giorni che le vie siano riaperte al traffico e si avviano nella scia degli spazzaneve.